Musica Ben trovati al TG di TV6 L'Aquila in apertura, oggi andiamo subito in regione, parliamo di bilancio e vi proponiamo il controbilancio di fine anno del Movimento a 5 Stelle. Alla vigilia della maratona in Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio, il gruppo consigliare del Movimento a 5 Stelle snocciola dati e cifre su occupazione, sanità e su tasse in visita della battaglia in Aulea, preannuncia un duro ostruzionismo. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. Una sorta di controconferenza stampa di fine anno per tracciare un bilancio delle attività della maggioranza vista dall'altro lato della barricata. Snocciolando i dati micro e macroeconomici forniti dall'Istat e dagli altri istituti di ricerca, il Movimento a 5 Stelle va giù duro nei confronti della maggioranza, guidata da Luciano D'Alfonso. Parlando di calo dell'occupazione e della ricchezza, aumento dei debiti e diminuzione dei servizi ai cittadini, come nella sanità, il tutto mentre all'emiciclo è in partenza la maratona di fine anno per l'approvazione del bilancio e anche in questo caso i pentastellati annunciano un'opposizione durissima. Da quanto riportato dai revisori dei conti, permangono le criticità che erano state già espresse l'anno scorso e per le quali la Corte dei Conti aveva quasi commissariato l'Abruzzo. Di conseguenza siamo in una situazione in cui il bilancio è mero atto formale e il Consiglio è stato peraltro svuotato completamente del suo ruolo. Per cui un'aggiunta che il bilancio lo fa sostanzialmente da sola e lo fa anche male. E' chiaro che in queste condizioni noi ci troviamo a non poter capire quale sarà il futuro dell'Abruzzo. Un futuro che se dobbiamo stare a quelli che sono i dati macroeconomici di oggi è sicuramente estremamente nero. Tutti i dati macroeconomici sono in calo. Abbiamo riduzione dell'occupazione, riduzione delle imprese, riduzione del credito alle imprese, danni sulla sanità sia per quanto riguarda i punti nascite, l'organizzazione sanitaria, la compartecipazione. Tutte le categorie svantaggiate vengono comunque penalizzate. Per cui noi ci troviamo a una contrarietà completa per quanto riguarda l'organizzazione del bilancio della Regione e nell'impossibilità di capire, anche perché non c'è stato ancora garantito l'accesso al sistema informativo contabile, che cosa sarà dell'organizzazione finanziaria dell'Abruzzo. E oggi infatti, questa mattina, sono ripresi i lavori della prima commissione bilancio per la discussione dei documenti economici e finanziari della Regione. Domani alle 11, infatti, come dicevamo, è fissata la seduta del Consiglio regionale per l'esame finale del documento di programmazione economico e finanziario regionale della Legge di Stabilità regionale 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018. Parliamo ora di ricostruzione. Oltre 4 miliardi per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila, grazie alla Legge di Stabilità. Ne ha parlato questa mattina la senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane. Nel servizio è di Paolo Renzetti. Senatrice Pezzopane, in dubbi vantaggi per l'Abruzzo con la nuova legge di stabilità. Parliamo della ricostruzione. Appena detto in conferenza stampa che ci sono 4 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Aquila. Quasi 5 spendibili, già con delibera cipe, sono stati programmati gli interventi per il 2016, oltre un miliardo immediato. E poi ci sono le norme che prorogano i precari della ricostruzione, i miei emendamenti approvati. Questo consente a coloro i quali lavorano negli uffici dei comuni, del comune dell'Aquila e negli uffici speciali, ovvero 165 persone, di poter continuare il loro lavoro per due anni nei comuni, per tre anni negli uffici speciali. Abbiamo salvato un'azienda, 165 persone e soprattutto abbiamo consentito di continuare a lavorare sulle pratiche e a spendere i soldi presto e bene. Poi altre norme sulla ricostruzione delle chiese e poi l'Abruzzo che insieme alle altre regioni del sud torna a soffrire di strumenti per la promozione degli aiuti nel mezzogiorno, si torna quindi a parlare di mezzogiorno con il credito d'imposta e si torna a parlare di Abruzzo che se ne può avvantaggiare. Inoltre con il decreto antilocale abbiamo inserito delle norme sia per controllare meglio l'uso di questi fondi e anche con i controlli a campione, con l'intervento della Guardia di Finanza, con la normativa e la certificazione antimafia, ma anche abbiamo inserito delle norme per semplificare e per rendere tutti più responsabili. La cronaca, donna aggredita al Bancomat. Tre uomini all'Aquila hanno picchiato una donna nei pressi di un Bancomat nella zona del Torrione. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un SUV. In corso l'indagine per risalire all'identità dei rapinatori il servizio. Ancora notizie che provengono da Banca Etruria e dai movimenti che si stanno organizzando. Il Movimento Noi con Salvini e Abruzzo ha organizzato un sit-in di protesta in difesa dei risparmiatori a Pizzo, di uno dei comuni più colpiti dal decreto salvabanche, dinanzi alla sede di Banca Etruria in Corso Sallustio per domani alle ore 11. Il piccolo centro dell'Aquilano è proprio l'emblema dello scandalo del decreto salvabanche. Si legge in una nota del Movimento che ha consentito il salvataggio degli istituti di credito a spese dei piccoli risparmiatori. Un intero comune in ginocchio, parliamo ovviamente di Pizzoli, per l'effetto dell'azzeramento delle azioni e per l'annullamento delle obbligazioni subordinate. Una brutta disavventura. Fortunatamente ha lieto fine per due escursionisti romani bloccati ieri sul Gran Sasso e tratti in salvo da due elicotteri, uno del 118 dell'Aquila e uno proveniente da Pescara. Uno dei due è scivolato mentre era con il figlio nella direttissima che porta al corno grande. L'uomo ha scivolato percorrendo qualche metro, ma fortunatamente la tempestività del soccorso ha evitato il peggio. L'uomo ha delle ferite lievi, è stato trasportato comunque al nosocomio aquilano del San Salvatore per tutti gli accertamenti del caso. L'Aquila, aperitivi e polemiche da barra. È durata qualche ora, ma ha infiammato parte della città e dei social network. La polemica sui rifiuti lasciati per strada dagli avventori che hanno partecipato al tradizionale aperitivo di Natale in centro all'Aquila, al Boss. Una situazione tornata presto alla normalità nel giro di poche ore grazie all'intervento degli operai dell'SM. Sentiamo. Nella città delle polemiche e dei 99 comitati neanche l'area natalizia di festa è riuscita a mandare in soffitta, almeno per qualche ora, la capacità che hanno spesso gli aquilani di dividersi anche sulle questioni più futili, come l'aperitivo di Natale. Una tradizione che ogni anno si arricchisce di presenze e che, comunque la si pensi, riesce a portare per strada migliaia di persone per le vie di un centro storico normalmente animato esclusivamente da operai e cantieri, dove la polvere provocata dai lavori l'ha fatta padrone. E la polemica, come sempre più spesso accade, parte dai social network, dove gli indignados da scrivania hanno, sin dalla serata del 24, iniziato a postare anatemi e messaggi moralizzatori per le cartacce, le bottiglie ed i resti di una festa collettiva che si è protratta sino all'ora di cena. Certamente ci sarà stato chi, nella massa, avrà abbandonato rifiuti per strada, disinteressandosi del bene comune, ma molti, osservati anche da chi vi parla, hanno conferito plastica, vedro e carta nei contenitori della differenziata, forse insufficienti a contenere l'amore di rifiuti generata dalle migliaia di persone che si sono riversate in centro storico. A mettere a posto tutto ci hanno pensato gli operai dell'SM, solo in cinque il turno quel giorno, e che nel giro di qualche ora, con un solo mezzo a disposizione e tanta voglia di energia nelle braccia, hanno restituito decoro e pulizia agli angoli della città dove hanno stazionato per ore gli avventori. Insomma, una situazione straordinaria, ma al tempo stesso gestibile, magari con qualche castanetto in più, che probabilmente verrà predisposto il prossimo anno, è un pizzico di buonsenso che non guasterebbe, sia da chi ma è strada a divertirsi, sia da chi è pronto a pigiare un tasto, per scatenare una discussione fine a se stessa. Il giorno di Natale, tutti a tavola e polemiche già in soffitta, perché nella città della ricostruzione i pensieri di molti sono rivolte a questioni più importanti, come la voglia di normalità perduta, che anche solo un brindisi in compagnia può regalare, magari per qualche ora, prima di tornare ad una realtà fatta di macerie e speranza nel futuro. E ora la pagina ampia, dedicata ai presepe viventi che hanno animato e animeranno anche nei prossimi giorni l'Aquilano. Andiamo subito a quello di Camarda, un boom di visitatori, oltre 4 mila presenze, hanno accompagnato la 27esima edizione del presepe vivente di Camarda, un borgo magico e davvero alle pendici del Gran Sasso, tra le rue del paese, gli antichi mestieri, degli artigiani del posto e i piatti tipici della tradizione contadina. Riviviamo il momento più salienti del presepe vivente di Camarda. Oltre 4 mila presenze hanno animato la 27esima edizione del presepe vivente di Camarda, gli antichi mestieri e sapori di un tempo nelle rue del borgo alle pendici del Gran Sasso. Ancora tutto da ricostruire. E questa è la postazione del notaio, o meglio il notabile forse in quei tempi. La persona che comunque leggeva le lettere che arrivavano dagli emigranti e rispondeva dietro suggerimento delle persone del posto. Allora, questo è un mestiere che facevano i contadini prima per la trebbia. Prima non c'erano i macchinari per trebbiare e allora facevano col cavallo, con l'asino, con l'animale e pestavano, mettevano il grano sotto per terra e pestavano il grano con il cavallo, in modo che la spiga si rompeva e scendeva sotto il grano, il chicco, e rimaneva sotto e la paglia rimaneva sopra. Un percorso tra le botteghe artigiane dell'epoca, frutto di una minuziosa ricerca storica nei dettagli, negli abiti e negli attrezzi dell'epoca. Un bilancio più che positivo per gli organizzatori. I numeri sono bellissimi, abbiamo superato i visitatori degli scorsi anni, quindi significa che il nostro presepe è piaciuto e quindi grazie a tutti per essere stati qui a Camarda e essersi anche divertiti magari. Al termine del viaggio, tra le antiche vie di Camarda la Natività, la Sacra Rappresentazione. Grande novità di questa edizione, la cometa realizzata dall'artigiano Dino Scipioni, che è stata sulla montagna, ha guidato i visitatori nel piccolo e affascinante borgo, proprio come allora, proprio come a Bethlehem. Come un vero presepe, quindi la cometa che sta sul monte intagliata quindi non ha fatto altro che avvicinare sempre più la gente alla capanna, quindi come no, è stata una bellissima novità. E da Camarda andiamo a Coppito, quella notte una luce, un presepe in dialetto aquilano. A Coppito per la quinta edizione del presepe vivente, il testo della Natività è stato rielaborato e riscritto in dialetto aquilano, una rappresentazione questa accompagnata anche da cori, musica e poesia. Sentiamo. Musica e poesia nel presepe vivente di Coppito, murata a gigotti come Bethlehem in quella notte una luce, giunta alla sua quinta edizione. Un successo di pubblico, oltre 4.000 presenze, con oltre 150 figuranti, voci narranti, cori, con la presenza del maestro Alberto Martinelli. Il testo della Natività è stato rielaborato e riscritto in dialetto da Tonino Frattale e la Corale L'Aquila, diretta dal maestro Giulio Gianfelice, il coro parrocchiale diretto dal maestro Marcella Panella, i bimbi di Murata Gigotti, diretti dal maestro Katia Di Michele, il gruppo teatrale della Proloquo diretto da Sergio Marziani, hanno impreziosito la rappresentazione. Le voci narranti si sono alternate durante la rappresentazione, con le poesie dei poeti aquilani. Come ogni sera l'ambrunita, pigliò la brocca e i eti alla fontana. Presenze da record per questa quinta edizione, tante partecipazioni e collaborazioni che negli anni si sono aggiunte per arricchire questo presepe vivente, per farlo crescere sempre di più. E ora lo sport, l'Aquila Calcio prosegue gli allenamenti in vista della ripresa del campionato il prossimo 9 gennaio, con la gara interna contro la Lupa Roma. Ieri si è aggregato alla comitiva anche un terzino destro svincolato, si tratta di Cristian Chiereletti, classe 88, una vecchia conoscenza di mister Carlo Perrone, perché ha militato tra le file della Salernitana per ben tre stagioni. L'Aquila Calcio continua intanto a sondare il mercato per la trattativa di Emanuele Pesoli, che però ha avuto proposte anche da altri club su tutti il lanciano. L'Aquila Calcio però non può attendere dentro questa settimana, dunque verrà definita anche questa questione dal direttore sportivo Alessandro Battisti. Il Capodanno in Piazza Duomo comincia a uscire un cartellone più dealineato e sarà all'insegna della musica. Si esibiranno i Metro Gruppo Aquilano, di recente protagonista del reality Amici di Maria De Filippi, e il Piotta. Ad aprile della serata la band Rivelazione del Capoluogo, i Metro vincitori, tra le altre cose, del Festival di Ghedi, del Festival Show all'Arena di Verona, del contest di Radio DJ. Si prosegue dopo il consueto brindisi di mezzanotte offerto dal Comune dell'Aquila e dall'associazione organizzatrice. Vulcano con il Piotta, il cantante di Hit Trash come Supercafone, la grande onda ed Eurocontanti, che porterà una ventana di allegria con il suo live frizzante. L'ingresso e gli spettacoli saranno gratuiti. La serata terminerà con il DJ set di Inobet. Sarà previsto anche un punto ristoro all'intorno del tendone. L'inizio spettacoli alle 23, l'apertura del tendone ci sarà alle 22 e 30. È tutto, io vi ringrazio per averci seguito, per la vostra sempre cortesi e attenzione. Vi invito a rimanere su TV6 per la consueta programmazione. Arrivederci dalla redazione del TG6 L'Aquila. Grazie. Grazie.